pasta fredda con tonno pomodorini e olive è facilissima da fare ed è buona buona messa la pasta in abbondante acqua salata scollala bene al dente versare in una terrina condiscila con olio extravergine d'oliva e lascia raffreddare completamente nel frattempo lava i pomodorini e tagliali in quarti in alternativa puoi utilizzare il pomodoro cuore di bue dopo averlo velocemente sbollentato ed aver eliminato la buccia esterna i semi e tagliato a pezzettini aggiungi i pomodorini alla pasta il tonno sott'olio sgocciolato e le olive tagliate a rondelle profuma con del basilico fresco spezzettato o in alternativa con del prezzemolo tritato aggiungi del pepe la scorza grattugiata di un limone bio ancora un pizzico di sale e voilà . . ... . . . Grazie a tutti.